Il pianeta si riscalda sempre di più e velocemente e le Nazioni Unite chiedono con urgenza l'applicazione dell'Accordo di Parigi sul clima. Nell'ultimo anno le temperature sia degli oceani sia sulla terraferma hanno superato ogni mese i primati precedenti, facendo segnare la sequenza di aumenti consecutivi più lunga dall'inizio delle misurazioni nel 1880, fa sapere l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Questo è il dodicesimo mese consecutivo in cui le temperature battono i record. E la cosa particolarmente preoccupante è il margine con cui questi record vengono superati. Non vengono soltanto superati, ma abbattuti e di molto. Le temperature sono ora più alte di 1,1 gradi rispetto alla media del secolo scorso. L'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, raggiunto a dicembre da 175 stati ma non ancora ratificato da molti, promette di contenere l'aumento delle temperature entro i due gradi, una soglia che rischia invece di essere superata tra due generazioni.